E' arrivata a Bassano da Verona la carrozza matta, il treno speciale a vapore tradotta storica nel giorno del centenario dell'entrata dell'Italia nel primo conflitto mondiale. Più di 400 i partecipanti a questo viaggio commemorativo verso i luoghi della grande guerra. Abbiamo organizzato un evento ferroviario sui binari dei ricordi e della storia. Proprio il treno in quegli anni di guerra ha avuto un ruolo fondamentale per la gestione e l'organizzazione degli spostamenti anche delle truppe militari. La ferrovia è stata la quarta forza armata militarizzata nel primo conflitto mondiale. L'importanza e la logistica del treno è stata fenomenale e formidabile in supporto agli eserciti e alle truppe che dal fronte dovevano scendere o salire. Dalla stazione ferroviaria di Bassano 12 corriere sono partite alla volta di Cimagrappa per rendere onore a chi è sepolto nel Sacrario. Gente da tutta Italia, una folta rappresentanza del ferroviario del Genio con delle autorità militari sono venute a fare l'onore ai caduti.